Non è un po' preoccupato da questa catena di infortuni anche muscolari? No, aspetta, 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 catena ci vuole della calma, perché se no... Serie di infortuni? No, serie, no. Beh, Alessandro, Pogba... Pogba che? Pogba ha avuto un problema fisico prima di fermarsi, comunque ha avuto un risentimento. Il problema fisico? Dove? Nelle prime giornate, vabbè comunque... Che problema fisico che ha avuto? Non ha avuto un problema muscolare. Dove? Dove? E non si è allenato per tutta la tournée. Come? Tutta la tournée l'aveva saltata, poi è tornato, poi ha avuto un problema, poi c'è stato questo caso. Tutta la tournée è saltata perché? Non lo dica lei, avete detto problema muscolare. Ginnocchio. Voi scrivete problema muscolare? Noi scriviamo quello che ci dicono, quindi... Come? Scriviamo quello che ci dicono. E vabbè c'è un problema muscolare? No. Benissimo, allora, sono già due. Chiesa. Alessandro. E chiesa. Chiesa, l'ho spiegato prima. Forse devo tornare a scuola a imparare l'italiano. O forse... Non mi capite, perché qui ci sono due cose. Cioè se uno parla, o io parlo male l'italiano, o lei non capisce. Eh, perché se no mi fate arrabbiare. Voi serene e tranquillo. Mi sto dicendo che Chiesa, dalla risonanza, non ha niente, sta male al dolore. Abbiamo parlato, se io devo avere un giocatore che è preoccupato, non lo faccio giocare. Finito. Vlaovic, problema alla schiena, non è muscolare. L'unico che abbiamo, Alessandro. Finito. Catene, non ce n'è. C'era stato anche Ken. Le catene sono quelle della bicicletta. C'era stato anche Ken infortunato. Ken dove? Ha avuto un infortunio. Dove? Dove? Quella è una roba vecchia di un anno, un colpo. Eh. Un colpo dove c'è un soprosso, che gli viene fuori il dolore. Finito. Eh. Allora, è senza applicare a me tranquillo. Però, venimi. Cioè, fate... Diciamo... Eh. No, però la domanda era... Eh, allora, c'è la domanda una e un'altra? No, questa era la premessa. No, questa era la premessa e la domanda era... Ah, la premessa è che? Fammi la domanda, non mi fai le premesse. Bene, allora, in una stagione senza coppe... Cosa c'è? No, infortuna, come magari... Infortuna, cosa c'è? Se non c'è, fa un altro. Oh, perfetto. Finito.